Siamo in un luogo insolito davanti alla baracca dei burattini della compagnia laprisogni di treviso o vicino a me cristina casonna e paolo saldari coppia nella vita e nell'arte 30 anni fa hanno dato vita a questa associazione culturale che diffonde la cultura del teatro di figura cristina tiene in mano l'ultima creatura ludmilla ludmilla buonasera e paolo invece ha in mano gretel buongiorno ecco allora avete già capito stiamo parlando comunque di una favola di un classico dei grim ansel e gretel è la prossima produzione di settembre cristina con questa sta uscendo da un anno e mezzo di stasi sostanzialmente dovuta al lockdown sì non esattamente un anno e mezzo diciamo di stasi ultimavera sono nove mesi praticamente una gravidanza ecco e siamo riusciti a lavorare tre mesi nel 2020 l'estate scorsa abbastanza intensamente e poi abbiamo lavorato a casa cioè abbiamo preparato una cosa come tre allestimenti più adesso stiamo collaborando con paolo paparotto e cristina marini per uno spettacolo a quattro e beh posso dirlo si chiamerà pantalone memento mori ed è uno spettacolo satirico sulla morte per adulti vi avviso ecco c'è anche questo in corso e al momento stiamo facendo ansel e gretel che debuterà a settembre e sarà una lettura diciamo metropolitana della fiaba noi abbiamo le fiabe come dire come linea conduttrice di una parte del lavoro però sono sempre interpretate cioè non sono alla lettera ma sono ecco questa è una ansel e gretel metropolitano in cui i bambini si perdono e usano il gps in cui la mamma è una mamma single divorziata piena di lavoro e piena di grane per cui poveretta le capita di dimenticarsi i bambini al supermercato in libreria dal carrozziere in giro perché deve correre in ufficio continuamente con un capufficio tirannico ecco questo è il sunto della cosa abbiamo spoilerato praticamente ansel e gretel però paolo si stava coccolando gretel sei tu che crei poi queste meraviglie come la casetta di zucchero la casetta di dolci che attira i bambini vero si sono io costruisco tutte le parti in legno scolpisco le teste dei burattini le mani la maggior parte le coloro e poi cristina fa tutte le altre parti quelle di tessuto come si può vedere sono molto ben curate quanto ci metti cioè cosa per creare questa questa casetta meravigliosa qui dietro non è che fa gola solo a vederla cioè quanto che lavoro c'è dietro la preparazione di queste cose che possono sembrare semplici eppure invece sono molto complesse ci vuole tanto tempo sarà una settimana di lavoro lì perché ci sono tutte le tegole da tagliare lisciarle incollarle colorarle puoi fare tutti ma i bambini 30 anni fa avete cominciato e sicuramente c'era una generazione di bambini oggi sono ancora in grado di stupirsi di fronte al teatro dei burattini questi sono poi i burattini a guanto tanto per essere per chiarire sono i bambini si stupiscono ancora per carità altro che altro che non solo si stupiscono ma parlano volentieri con i burattini anche fuori dalla baracca cioè ci succede molto spesso adesso dobbiamo purtroppo tenerli a distanza per la storia del covid ma in genere ce li abbiamo tutti vicino abbracciati attaccati alle gambe mi vedono o lo vedono con il burattino inguantato vedono benissimo chi è attaccato al braccio ma parlano con il burattino non con me quindi veramente allora il gioco della fantasia ancora oggi nonostante la tecnologia digitale ancora si scatena ma scherzi altro che e guai se non ci fosse e guai se non ci fosse e vi dirò di più l'anno scorso è stata un'estate particolarmente intensa dal punto di vista emotivo sia perché siamo stati fermi tanto cioè quando abbiamo fatto il primo spettacolo e abbiamo montato la baracca avevamo i coriandoli del 23 febbraio in mezzo al velluto cioè quello era la misura del tempo però abbiamo avuto talmente un riscontro di calore dalla gente affettuoso di persone che ci scrivevano ci ringraziavano oltre misura per tutto cioè è stato veramente un bagno di amore e quindi